In Italia, bella Italia, dico bella Algeria. Come oggi in Italia, bella Italia, bella Italia, ci dico sì, bella Algeria, bella Algeria. Perché veramente ci sono tutte le possibilità per andare di nuovo, per vedere di nuovo e per fare anche visite turistiche a questo paese. E sicuramente tutto cosa ho provato da contattare altri paesi con loro specialità hanno fatto gustare e mi hanno fatto piacere di provare di ricontare anche tornando a casa. Se vuoi parlare sul plan della gastronomia, tutto ciò che ho potuto provare e mangiare, mi hanno fatto davvero l'ambito di farlo a noi. Questo abbiamo mangiato e mangiamo anche qua alla casa la nostra Sidi Moussa. L'ho mangiato, ma l'ho mangiato anche la Sidi Moussa.